Isola dei famosi 2019, cast, concorrenti e tutte le anticipazioni Lavori in corso per l'Isola dei famosi, in onda a partire da giovedì 24 gennaio 2019. Il reality prodotto da Magnolia è pronto a tornare il prossimo anno con la quattordicesima edizione e gli autori sono già a lavoro per definire ogni dettaglio. Ecco tutte le indiscrezioni in vista della partenza. Isola dei famosi 2019, conduttrice. Alessia Marcuzzi sarà conduttrice per il quinto anno di fila. A confermarlo è stato Giancarlo Scheri, direttore di Canale 5, a margine della conferenza stampa di presentazione del Grande Fratello VIP, tenutasi lo scorso settembre. Isola dei famosi 2019, opinionisti. Ad annunciare le nuove opinioniste dell'Isola dei famosi 2019 ci ha pensato Alessia Marcuzzi attraverso il suo profilo Instagram. Sono felice di presentarvi le mie donne dell'Isola 2019, Alba e Alda. Le donne in questione sono Alda Deusanio e, come vi avevamo anticipato, Alba Parietti. Isola dei famosi 2019, casta, concorrenti e tutte le anticipazioni. Isola dei famosi 2019, inviati. L'inviato è Filippo Nardi, ex-naufrago, ex concorrente del Grande Fratello e Dex Iena per le Iene Show di Italia 1. Lo ha ufficializzato il profilo Instagram dell'Isola. Isola dei famosi 2019, concorrenti. I primi ed unici concorrenti annunciati ufficialmente sono Marina La Rosa, ex gatta morta del Grande Fratello, Paolo Brosio. Giornalista televisivo famoso per la conversione avvenuta di recente alla Madonna di Mediugorie, Joe Squillo, conduttrice televisiva, il pugile Marco Maddaloni, le due figlie d'arte Vittoria e Virginia Mihailovic. Di seguito, invece, trovate tutte le indiscrezioni sugli altri papabili concorrenti. Stando a quanto apprendiamo, a sostenere il casting c'è stato senz'altro Claudio Sona, modello vereonese diventato famoso nelle vesti di primotronista gay di Uomini e Donne. Il settimanale Spy, invece, indica questi nomi, Fariba Tearani, Andrea Pinna, Akash Kunar, Cristina Davena, l'ex pur Riccardo Fogli, Alvin, la prorompente Taylor Mega, influencer sui social ed ex compagna di Flavio Briatore. L'ex concorrente di Amici Luca Vismara, la sosia italiana di Melania Trump Sara Altobello, la modella Yuma Diakiti e dell'attrice Demetra Hampton. Colpo dell'ultima ora Douglas Mayer Nilsen, figlio di Brigitte, che ha rifiutato l'ingaggio all'ultimo momento. Si vocifera anche della partecipazione di Luca Dorigo, ex tronista di Uomini e Donne. Incerta, invece, la presenza di Geremias Rodriguez, colpito da problemi di salute proprio poco prima della partenza. Il fratello di Belenzi è fratturato il metatarso dopo una caduta sulla neve, causata del tentativo di schivare una bambina. I medici gli sconsigliano la partenza, poiché servirà un mese per una ripresa netta, ma lui insiste, voglio partire lo stesso. Alla rosa dei nomi si aggiunge anche Giorgio Manetti, ex cavaliere del trono over di Uomini e Donne, che in un'intervista ha parlato di lavori in corso proprio in riferimento alla sua partecipazione al reality. Il sito blog avanza invece il nome dello chef tv Gianfranco Vissani. Secondo Corona Magazine, infine, tra i nomi ci sarebbe anche quello di Nicola Ventola, quarantenne nonché ex attaccante della nazionale italiana. Isola dei famosi, saranno isolani. Previsto anche quest'anno il prequel dell'isola vera e propria. Nelle settimane precedenti al debutto, dieci aspiranti naufraghi si scontreranno tra loro per avere accesso al reality, solo uno di loro sbacherà in Honduras. Ecco chi sono gli aspiranti naufraghi di questa edizione, Alice Fabrica, 22 anni, travel influencer e aspirante showgirl, Chiara Patriarca, 35 anni, fruttivendola e stornellatrice. Eleonora Massara, 45 anni, imprenditrice, 360 volte Miss, Giorgia Venturini, 34 anni, comunicazione e media, Lucia Grieco, 25 anni, addetta alle vendite e aspirant attrice. Mario Il Falco Ferri, 31 anni, calciatore e invasore di campo, Giovanni John Vitale, 33 anni, gogo boy, Mirco Pontesilli, 45 anni, operatore call center e aspirante showman. Salvatore Vigliucci, 59 anni, messo comunale e aspirante ballerino, Iuri Rambaldi, 25 anni, spogliarellista aspirante tronista.